Allora, grazie Fabrizio Segalerba, ringrazio naturalmente il nostro segretario nazionale ed il presidente nazionale che nonostante le difficoltà sanitarie hanno voluto partecipare a questo incontro, anzi organizzarlo, per dare spazio a quello che è la nostra professione. La nostra professione in questi anni si è completamente evoluta, è cambiato totalmente il modo di svolgere, l'intermediazione immobiliare e soprattutto è cambiata anche la tecnologia per svolgere questa attività. E di questo noi ne parleremo questa mattina. I nostri clienti vogliono sempre più professionalità e competenza, che ormai è diventata doverosa nei confronti del pubblico, perché non dimentichiamo che l'investimento immobiliare per l'80% dei cittadini italiani è il loro maggior salvadanaio, è il loro risparmio. Quindi l'agente immobiliare sarà sempre di fianco ai nostri cittadini, quindi è anche un dovere sociale che svolge i mediatori. Altra cosa che noi troviamo molto importante come FIAIP è quella di essere vicini ai nostri associati, offrendo loro non solo la tecnologia che ormai è diventata necessaria e obbligatoria, ma creando dei corsi di aggiornamento e adeguamento professionale che permettono di svolgere questa attività sempre con più competenza, proprio per questo senso di responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri cittadini. Lo spot che vedremo, di cui vi parlerà più ampiamente il nostro Presidente nazionale Baccarini, parla proprio di questo, di includere tutti gli agenti immobiliari, di aprirci alla nostra nuova professione, che è un bellissimo lavoro, che però richiede dei grandi responsabilità, perché al di là di tutta la tecnologia che noi offriamo, di tutto ciò che è il PropTech, poi dietro ci deve essere l'uomo. Il cittadino lo vuole, il cliente vuole essere seguito, vuole sentire il calore umano, vuole sentire il professionista di fianco a sé, ma anche l'uomo, non un semplice algoritmo. Quindi questo nostro spot che poi vedremo è proprio aperto a questo, a tutti i cittadini e soprattutto a tutti i professionisti del settore. Grazie Baccarini per quello che sta facendo per Fiaip e grazie a Fiaip. Un saluto a tutti, grazie per essere intervenuti.